L'Italia supera quota 18 milioni di somministrazioni con oltre 5 milioni di doppie dosi. 5 milioni di italiani quindi hanno completato il ciclo di immunizzazione al Covid-19, mentre la campagna inizia ad andare a pieno regime. Negli ultimi tre giorni della scorsa settimana, da venerdì 23 a domenica 25 aprile, le somministrazioni hanno raggiunto quota 1.025.000, a fronte dell'obiettivo di 1.056.000. Dati che, secondo il commissario all'emergenza generale Figliuolo, possono portare all'obiettivo di 500.000 iniezioni al giorno dal 29 aprile, anche grazie all'arrivo nelle prossime settimane fino a fine giugno di 62 milioni di dosi di vaccino. Si corre contro il tempo per abbassare il più possibile il numero delle vittime. Ad oggi l'82% degli over 80 è immunizzato, mentre si continuano a vaccinare gli over 65 ai fragili. Su fronte pandemia, ieri i nuovi positivi erano 8.000 contro i 13.000 del giorno precedente, in salite e decessi da 217 a 301, anche per effetto delle comunicazioni tardive. Intanto da Palermo, zona rossa, arriva l'appello a non violare le regole del sindaco Orlando. Incoscienti, fermatevi, state provocando la morte di migliaia di persone e di migliaia di aziende.